La Linter compie il suo capolamore. Questa è una fattiglia consegnata al capitano, agli attalenti, il capitano, di 700 partite con le manche dell'Azur, 15 anni di fedeltà ed eccola, alta, sul cielo di Madrid, la Coppa degli Ampioni, torna in Italia. Parti ovunque, facciamo ora che il capitano è pronto ad alzare la Coppa con le orecchie più grandi di un elefante. La Champions League la vorremmo baciare tutti in primo fallo e ad alzarla nella notte del 22 maggio 2010 con Platini che si va a prendere la posizione migliore del capitano, il capitano, la Champions League del Linter, campioni d'Europa, campioni d'Europa, campioni d'Europa. Grazie alla formazione della ragazza e bueriggio. Musica per le nostre orecchie, e musica per le nostre orecchie, e la festa inizia adesso, e l'adesso inizia la festa, ed adesso è festa di... Musica per le nostre orecchie, e la festa inizia 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 la festa iniz Grazie a tutti.